È stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Pesaro il poliambulatorio IGEA Policlinica. L'accusa è quella che nel centro si effettuassero tamponi senza l'autorizzazione necessaria da parte dell'ASUR. I referti dei test sarebbero stati firmati non da un medico come richiesto dalla normativa, ma da un'infermiera, amministratrice del poliambulatorio. L'esecuzione dei tamponi dunque non è mai pervenuta all'ASUR. Inoltre, nel caso di positività di qualche test, al paziente veniva indicato di contattare privatamente il proprio medico di base per comunicarne l'esito, a differenza quindi di quanto indicato dalla legge regionale per il tracciamento, che prevede da parte dei laboratori l'immediata segnalazione dei nominativi dei positivi al centro di prevenzione. Sembrerebbe poi che alcuni tamponi rapidi siano stati venduti ai clienti come test molecolari e quindi a un costo più elevato rispetto alla prima tipologia. In realtà però pare che nessun laboratorio abbia mai preso in carico l'analisi dei molecolari del centro IGEA, che avrebbe quindi effettuato unicamente tamponi rapidi a prezzi superiori rispetto allo standard. Diverse irregolarità di carattere non solo amministrativo ma anche penale per le quali la responsabile è stata denunciata. Nel frattempo l'ASUR ha attivato tutte le procedure per risalire a chi si è sottoposto al tampone nel poliambulatorio a cui sono stati apposti i sigili dai carabinieri. Tra questi anche alcuni studenti della scuola media Don Gaudiano. Tengo a dire che è un poliambulatorio che aveva una autorizzazione per effettuare solo prestazioni mediche specialistiche, che non aveva nessun convenzionamento col sistema sanitario regionale e quindi con il distretto di Pesaro. Praticamente era autorizzato dalla regione solo per fare alcune prestazioni, ma non era assolutamente autorizzato per effettuare tamponi rapidi o tamponi molecolari per la ricerca di Covid-19. Noi abbiamo avuto un paio di segnalazioni, una di un pediatra che ci ha inviato questo referto che era con questa carta intestata che noi non eravamo assolutamente a conoscenza che fosse stato autorizzato dalla regione e di fatti non lo era e quindi immediatamente è stato segnalato. Poi ci sono state le indagini dei carabinieri che hanno poi posto i sigilli e visto che effettivamente non era autorizzato. Io come direttore del distretto di Pesaro ho inviato ieri una mail a tutti i medici di medicina generale, a tutti i pediatri di libera scelta del distretto di Pesaro, perché probabilmente i cittadini sono coinvolti rispetto a Fano e Urbino, chiedendo questa cosa di contattare il Dipartimento di Prevenzione a un numero che lo vedete qua sovra impresso e che comunque è stato mandato a tutti i medici di medicina generale e pediatri, quindi qualsiasi persona si può rivolgere al proprio medico per comunicare se ha fatto tamponi in questa struttura, perché ricordo e ribadisco non era autorizzata. Abbiamo fatto questo appello alla popolazione, quindi ai medici di medicina generale, di stare molto attenti perché non siamo sicuri che i carabinieri abbiano trovato che l'elenco sia esaustivo di tutte le persone che hanno effettuato tamponi sia antigenici rapidi che molecolari in questa struttura. Poi dopo il Dipartimento di Prevenzione valuterà quando sono stati fatti e il perché e valuterà se ripetere il tampone, logicamente, col sistema pubblico. C'è questa scuola che è una scuola media di Gaudiano di Pesaro. Alcuni, sappiamo che qualche genitore e qualche studente è andato e ha effettuato i tamponi presso questa struttura. Pertanto il Dipartimento di Prevenzione ha inviato una nota alla preside della scuola comunicando che c'era stato questo blitz e questo che era successo, così da sensibilizzare anche i genitori e gli alunni a comunicare se effettivamente hanno fatto questi tamponi in questa struttura. Perché a noi non è arrivata assolutamente nessuna comunicazione, oltre a non sapere se quei tamponi sono stati effettuati veramente e come sono stati effettuati, con quale metodica.